Nescafè Frafè e Videomusic presentano The Night of the Guitars Tour Guitar Heroes Per la prima volta insieme i più grandi chitarristi rock del mondo Phil Manzanera, Steve Hunter, Randy California, Leslie West, Robbie Krieger, Andy Powell, Ted Turner, Pete Aycock, Ian Ackerman Ospite speciale per tutto il tour europeo Pino Daniele L'11 aprile a Torino, Pala Sport Il 12 a Verona, Pala Sport Il 13 a Milano, Pala Trussardi Il 14 a Parma, Pala Sport Il 15 a Firenze, Pala Sport Il 16 e il 17 a Roma, Tenda Pianeta Il 18 a Forlì, Pala Sport Il 20 a Pordenone, Pala Sport Nescafè Frafè e Videomusic per un tour indimenticabile